Ciao, oggi facciamo il distanzi della Mettete la tina Mettete il bullo Mettete questo Mettete questo Mettete l'uovo Mettete questo Mettete lo zucchero Mettete il zucchero Adesso impastiamo Senta lo facciamo Vediamo un attimo No, un po' con il 안에 C'è un po' io E' buono Poi il mo UX E' buono La metto in pasta le mettete dentro la pellicola adesso le mettete mezz'ora in frigo ciao amici anche io adesso come una forma tonda stappate le cecchie io non li mangio più poi li mettete nella teglia prendete uno di questi poi mettete uno stossicadente qui dentro poi fate gli occhi allontanatelo prima senza farlo peggiorare poi fate le corde fate così il nasino ed ecco fatto lo mettiamo mettiamo una ciliegina bandita questi appiccicano quindi vado attento a non farle cadere ecco qui la mia renna ed ecco i miei distotti renna adesso mangiamoli quindi cominciate da andare e poi facete tutte le storie di mare e poi qui e poi e poi qui e poi qui e poi qui Grazie a tutti